Un contributo arrivato da Regione Lombardia che permette di sviluppare un progetto a cui l'amministrazione di Cazzano aveva pensato negli ultimi anni, partendo da quello che era una possibile mensa nel periodo del Covid. Si arriva quindi all'idea di una sala polivalente? Sì, siamo partiti con l'idea della mensa, nel senso che era un'esigenza che era venuta avanti dopo il post-Covid e infatti avevamo attraverso il piano Lombardia fatto una richiesta di un contributo per poter fare attaccato all'attuale struttura della scuola primaria una mensa per i bambini. Poi con il proseguo del post-Covid e dell'emergenza è rientrato un attimino anche perché i costi effettivi erano molto superiori rispetto a quelli stanziati da Regione Lombardia. Abbiamo rivisto il progetto e praticamente con l'ultimo DGR, una correzione del DGR, ultimo inizio marzo, ci hanno confermato i 300 mila euro e con la progettazione che abbiamo fatto e che saremo pronti a breve uscire col bando praticamente verrà ampliato quella che la scuola primaria dopo aver acquisito l'anno scorso un pezzettino di terreno di proprietà della parrocchia praticamente saranno 80 metri calpestabili ma contestualmente verranno rivisti gli ex spogliatoi magazzeni, verranno creato un bagno perché sarà comunque una struttura polivalente che verrà utilizzata sia dai ragazzi della scuola ma potrà essere usata anche da persone esterne quando la scuola sarà chiusa perché abbiamo creato comunque anche un'entrata indipendente e quindi chi vorrà affittare invece dalla palestra un luogo più ristretto, quindi noi pensavamo tipo chi fa i corsi di yoga invece di usare tutta una palestra quindi anche nel periodo invernale con un consumo anche di riscaldamento, un ambiente più intimo e ripeto 80 metri quadri dove verranno fatti i corsi, quindi varie iniziative. Contando che ci vanno anche le lezioni, che tempi ci potranno essere? Andiamo alle lezioni, questo sarà l'ultimo progetto che metteremo in campo e dopodiché ci sarà la tornata elettorale. Ci sono altri progetti che abbiamo fatto fare e sono nel cassetto, alcuni li abbiamo già lanciati dentro i bandi sperando poi di rientrare e ne stiamo terminando un altro che verrà messo dentro in bandi online a fine settimana che riguarda i bandi piccoli comuni che è una messa in sicurezza di un tratto di strada del territorio molto pericolosa. Stiamo facendo le corse perché dobbiamo inserirlo entro venerdì. Questa scuola qua ha subito altri interventi, ricordiamoli un attimo negli ultimi anni. Sì, questa scuola qua ormai negli ultimi cinque anni ha vissuto, è praticamente stato un cantiere, abbiamo fatto il sismico anche lì 150 mila euro di cui 120 a fondo perduto, 30 dei nostri. Abbiamo fatto il fotovoltaico col bando Axel, circa 40 mila euro anche lì. Stiamo sostituendo tutti i serramenti. L'anno scorso c'è stato il primo lotto al piano inferiore e in questi giorni stanno facendo il piano superiore, quindi il secondo lotto. L'anno prossimo contiamo, adesso chi ci sarà, se facciamo ancora noi, di fare un terzo lotto per finire le altre parti mancanti.